Sono diverse le associazioni locali che negli anni e in particolare negli ultimi mesi si sono battute per apportare migliorie a quello che era il progetto iniziale e anche se alcune delle loro richieste sono state prese in considerazione e accolte dall'amministrazione comunale oggi li abbiamo incontrati per raccogliere la loro testimonianza anche perché dicono ci sarebbe ancora qualcosa da modificare e da aggiungere Abbiamo insieme alle associazioni naturalistiche visto quelle che erano le criticità e l'amministrazione ha accettato le loro richieste e le nostre richieste che erano quelle di salvaguardare il più possibile l'ambiente naturale che circonda questo meraviglioso posto Noi auspichiamo che questa ciclo pedonale sia fatta ben presto e sia realizzata ben presto Quello che manca poi secondo l'associazione Forbici FIAB è un collegamento con la ciclabile Fano Pesaro dalla zona trave ad esempio aprendo un tratto nei pressi del ponte Mimmo che possa rendere il percorso più breve agevolando i ciclisti provenienti da Pesaro o che da qua vogliano raggiungere la città della musica E un'altra cosa fondamentale è la segnalettica Molto spesso ci troviamo a indicare persone che vengono fuori che arrivano fa non sanno come orientarsi perché chi viene da Pesaro o chi viene da Sud da Marotta per proseguire attraversare la città molto spesso si trova così a navigare un po' nel buio Che cosa significa per il vostro quartiere la realizzazione di questa opera? È importante perché permette a chi abita in quella zona e nella zona di Cimarra di raggiungere tutto l'anno le zone il polo scolastico per esempio per i ragazzi, il centro della città, il cimitero urbano, la zona passeggi e il mare ovviamente e noi vorremmo che fosse percorribile per tutto il periodo dell'anno e anche durante la giornata in periodo notturno una discreta illuminazione, una razionalizzazione dell'attuale permetterebbe un uso molto più importante ed eviterebbe a molta gente di utilizzare il mezzo macchina che come sappiamo ha i suoi problemi legati a parcheggi inesistenti ridotti e l'utilizzo diciamo di una nazionale estremamente pericolosa perché lui e il tuo arco Grazie.